Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Eddie09 Lazio Ragazzi oggi giocheremo ancora una volta Cosa vi credete che non gioco più a Brawl Stars ragazzi? Ragazzi sto giocando sempre di più a Brawl Stars Oggi sono arrivato a livello 40 ragazzi Il prossimo video sarà su questo giochetto qua Su questo vedete che sto toccando Ci sono entrato, mi sono sbagliato scusate Comunque il prossimo video sarà su quel gioco là Ragazzuoli Allora andiamo su Brawl Stars Poi ditemi se volete qualche nuovo video della serie di Minecraft Che è iniziata 4 giorni fa Sì ragazzi Oppure se volete un video in questo gioco qua We We Mayhem Che è un gioco di wrestling Bellissimo ragazzi Me l'ha consigliato mio cugino Scusate abbassa la musica Allora ragazzuoli Oggi sono arrivato al livello 40 del Brawl Pass Quindi ragazzi Credo che ce la facci in 47 giorni a fare 30 livelli Suppongo Allora Comunque ragazzi andiamo subito in partita Con la signorina Maxine Raga Col Maxine Rieccoci ragazzi Allora Andiamo con Maxine in partita La miglioro Ne approfitto per migliorarla Andiamo andiamo Guarda abbiamo il nostro compagno di gioco energetico Chi ha fatto questo? Muori muori male Ti piace il rego insidermi eh Ma non l'ha affatto Avete visto lo scorso video ragazzi Se non l'avete visto No ragazzi Non ci credo Non fa nulla Più Sono triggerato Guardate qui sotto Precisamente Qui sotto 59 su 60 Raga Perché non posso mai fare Un grado Deciso Dai E raga Dai Perché mi trova 4 E non 10 Bug Forse la prossima cassa che apro Tornobroller Chissà Che è il nostro amico Gale Gale Vieni qua Io questo qua l'ho trovato 4 ore dopo che ho chiamato Incredibile Ok Vi ho fatto del male Moltissimo 369 Poi se carico la ulti Questo qua lo faccio carico Aia Malissimo Mi ho fatto Ti volevi Non muovi Non mi 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 muovi Ne approfitto per Tremere le tante perché si начинаvo andiamo a giocare su quest'altra partita e viva e viva Evviva Ragazzi comunque Corretta a guardare l'ultimo video Perché ragazzi Non l'ho scritto nel tutorial Ma in realtà è l'ospitale 40 iscritti Anche questa qua Un piccolo spitale 40 iscritti Che bindi Ouchi veramente Dai Non è possibile tutto questo Ah non è possibile No 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 Non è possibile È caduta la povera Maxime Zero toppe Yes ragazzi Lasciate un mi piace Lasciate un mi piace Tirate la campanellina Perché fai così male Liris Non importa Cosa meno due Meno due Come ti parlo Hai fatto arrabbiare Maxime Ehm 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 L'ultimo al mondo Nel libro stasso In questa parte è andato il meglio di me ragazzi Comunque ragazzi Noi per non finirei andare a fare sport di basket Scusate Uyy Ehm Ah non gliela farai Ah lo soffrivo Ah aah Ah aah Uccidiamo tutti Ehi Gari, lo sapevo che non era una buona idea. Per far arrabbiare l'ultimo al mondo di Brawl Stars, eeeeh. Non lo so, in che posizione sono di Brawl Stars. Vediamo se mi hanno espulso dal club perchè... No, non mi hanno espulso. Bene, bene. Andiamoci a fare un'altra partita con la nostra Maxine e poi ragazzi chiude il video, eh. Lo chiudo, lo chiudo. Ne vedrete un altro nel prossimo studio. In certi video metterò l'outro e certi no, perchè certi avrò voglia di ditarli e certi non avrò voglia. Quindi, ragazzi, ehm... Capite? No! Chi cavolo è questo, Gail? No! No! Lo sapevo! Capite? No! Ma, Xenio non la batte nessuno. Tac! Dammi i tuoi due power-up! In realtà se ce n'è... Corrento Lo ha sciottato! Ma cos'è ragazzi? Comunque sono contento di aver fatto queste vittorie ragazzi, sono contentissime Mi dispiace Non mi puoi invitare durante che faccio il video Mettiamolo di sbar E niente ragazzi Noi ci vediamo Noi ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Tutti Ciao a tutti